Radici e innovazione nel nuovo percorso del gabinetto Vessier si rinnovano veste e contenuti della storica rivista dell'Istituto, ma in programma anche altre iniziative per far tornare il Vessier uno spazio di cultura e divulgazione. Michela Barilari. Libri e carte, così Ugo Nespolo interpreta l'identità del gabinetto Vessier nella copertina con cui l'antologia si rinnova. Una vecchia tradizione primo-novecentesca che riguardava anche i quotidiani. La prima pagina viene illustrata da grandi artisti contemporanei, lavorano gratuitamente. Cominciamo con Ugo Nespolo, il prossimo sarà Marcello Lo Giudice. Novità che riguardano anche l'interno della storica rivista, con contributi suddivisi in quattro sezioni, saggi sulla cultura di Otto e Novecento, recensioni e novità librarie, ma anche scritti sulla contemporaneità come una riflessione di Nadia Terranova sulla piaga mai sanata del femminicidio. C'è un occhio sempre alla contemporaneità, come era all'inizio dell'Ottocento, non soltanto per la letteratura ma anche per la storia. Un percorso che mira a restituire il gabinetto Vessier al ruolo di centro di divulgazione e promozione della conoscenza, attirando giovani, come con il bando internazionale che invita gli studenti americani che sono a Firenze a raccontarla sulla falsa riga di quanto fecero intellettuali come James Trollop, che nel capoluogo toscano hanno soggiornato, un'istituzione che diventa uno spazio di cultura viva all'interno della città. Questo deve essere, perché Firenze non può essere soltanto nostalgia del passato. La nostalgia io penso che sia un pessimo sentimento, perché ci fa vedere le cose con l'occhio della giovinezza, quando tutto andava bene ma le cose non andavano proprio così. La nostalgia va riproiettata nella contemporaneità e quindi dobbiamo mettersi a rischio e lo stiamo facendo.